A Rezzo avrà un sindaco ed un consiglio comunale degli studenti e questo il progetto pensato e realizzato da Alessio Mattesini, presidente del consiglio comunale Aretino, per coinvolgere le scuole, quindi più giovani, in un'idea di rappresentanza attiva. Porta a far nuovamente coinvolgere i ragazzi, i studenti delle scuole superiori all'interno della massima assisi del comune di Arezzo. È un progetto che porta a essere loro protagonisti. Tre le liste presentate da altrettanti istituti scolastici che prenderanno parte alle elezioni, come tre sono i candidati a sindaco. Il 3 maggio inoltre si terranno le votazioni fra gli studenti, mentre il 5 ci sarà lo spoglio delle schede presso gli uffici della presidenza del consiglio comunale. Tutto questo per arrivare a presentare il candidato sindaco del consiglio degli studenti che naturalmente poi andrà ad eleggere la giunta e gli altri consiglieri e liste perdenti naturalmente anche loro parteciperanno, infatti ogni istituto ha individuato 10 ragazzi, 10 studenti quindi che andranno a ricoprire il ruolo di consigliere o di maggioranza di opposizione. Nella seduta naturalmente verrà presentato non solo il loro programma ma anche le liste perdenti andranno a presentare quello che erano i loro obiettivi. Ho deciso di candidarmi a sindaco perché il progetto che il professor Misuri mi ha presentato mi sembrava molto interessante sia per la città sia per noi stessi come formazione e quindi ho deciso insieme ad altri ragazzi di presentarmi con questa lista. Il nome della lista è Lista Mecenate e mi piacerebbe comunque espandere le mie conoscenze in politica e anche mettermi in gioco in questo mondo. Io ho deciso di candidarmi a sindaco poiché ho un obiettivo che mi piace chiamare più sfida ovvero quello di riavvicinare i giovani alla politica. Purtroppo Arezzo sotto questo punto di vista è un po' una città morta, purtroppo i nostri giovani non si interessano a politica da anni e posso dirlo avendo seguito da vicino le ultime due elezioni comunali è un problema che ci attanaglia e quindi il nostro obiettivo come gioventù a retina è quello di riavvicinare i giovani studenti alla politica e alla città. La nostra lista è Delisys Fossombroni, Buonorati Fossombroni e ho deciso di candidarmi perché avendo fatto lo stage alternante scuola lavoro all'ufficio cultura mi sono avvicinata molto all'ambito politico del comune. Poi perché appunto con l'esperienza che ho fatto sono stata anche a un consiglio comunale e quindi ho voluto mettermi io in prima persona.